Il mio è quello che è mio e il tuo, va bene? Beh, perfetto, allora io firmo, firmo. Beh, oddio, certe cose non le vorremmo proprio, tipo il colesterolo. Nessuno lo vuole e immagino che se siamo buoni non lo augureremmo neanche al peggior nemico. Perché comunque il colesterolo rappresenta una delle insidie più comuni, ma anche, diciamo, minano in maniera più globale la salute umana. E allora è ben presto detto che è meglio fare dei controlli, dei controlli assidui per controllare appunto i livelli, anche perché gravi patologie cardiovascolari sono proprio alla base, anzi il colesterolo è alla base di gravi patologie cardiovascolari. Ne parliamo oggi con il professor Dario Manfellotto che torna a trovarci, ricordo, direttore di medicina interna dell'ospedale Fatebene Fratelli, Isola Tiberina di Roma e presidente del FADOI che è la federazione dei medici internisti ospedarieri. Allora, ben trovato professore. Grazie, buongiorno Benedetta, grazie per la presentazione e per l'invito. Allora, il ruolo del colesterolo ed è, diciamo così, un prodotto nostro, cioè del nostro stesso organismo. Sì, il colesterolo è una sostanza grassa che in realtà è fondamentale nell'equilibrio, nel metabolismo del corpo umano, perché il colesterolo entra nella produzione della membrana di tutte le cellule che ha una copertura lipidica, cioè di grasso, entra nella sintesi di molti ormoni, gli ormoni sessuali, il cortisolo che è l'ormone cosiddetto dello stress, che è fondamentale per la risposta alle difficoltà del giorno quotidiano, per vivere la giornata nostra nel modo migliore, quindi è una sostanza fondamentale. È un amico. È un amico. Il problema quando è? Quando si verifica, quando questa sostanza diventa eccessiva. Allora, se è eccessiva, supera il fabbisogno dell'organismo e rischia di diventare dannosa, in particolare andando a depositarsi, è come una specie di cera. Ecco, la cera quando cade sulla tovaglia si infiltra e è difficile da togliere. Ecco, va sulla parete delle arterie, si deposita lì e lì innesca un meccanismo infiammatorio che procura la placca e poi sulla placca si accresce un grumo, diciamo, di sangue, sempre più grosso, fino a che può portare disturbi circolatori. Quindi è l'eccesso di colesterolo che è nocivo. La grafica ci sta aiutando, ma direi che il professor Manfellotto, con l'esempio della cera della candela che si infiltra nelle fibre della tovaglia, ha dato l'immagine plastica perfetta. Allora, controllare il colesterolo significa comunque non essere sciocchi e quindi arrivare preparati eventualmente a qualcosa che non vada. Le chiedo, ogni quanto andrebbero fatti i controlli, a partire da quali età e postilla, anche i bambini possono avere colesterolo alto? Allora, intanto volevo integrare quello che ho detto prima, perché il colesterolo è prodotto in buona parte dal fegato. Il fegato normalmente sintetizza, produce il colesterolo. Una piccola quota, siamo intorno al 20%, viene introdotta con l'alimentazione, ma grossa parte del colesterolo è prodotta dal fegato e quindi è una produzione normale, una sintesi normale. Noi questi livelli di colesterolo che circolano nel sangue dobbiamo controllarli e controllarli periodicamente. Diciamo che in condizioni normali, in cui non c'è una nota, un'onto di ipercolesterolemia, cioè un eccesso di colesterolo, noi possiamo fare un controllo ogni qualche anno, diciamo. Poi invece abbiamo le persone che hanno un eccesso di colesterolo nel sangue e già lo sanno, già è stata fatta la diagnosi e lì dobbiamo andare a cercare a dosare annualmente, ecco, perlomeno. Se poi ci sono dei trattamenti in corso, allora può diventare opportuno fare dei controlli periodici anche più frequentemente. Il medico però, ecco, io dico sempre che è il medico che valuta, al di là degli schemi, ogni sei anni, ogni anno, quando per lui è opportuno che il paziente, in rapporto alla sua situazione, in rapporto alla cura, debba fare i controlli del colesterolo. Prima di andare dal nostro adolescente Domenico, volevo sapere dei bambini. Sì, mi scusi, infatti i bambini, è un altro aspetto importante, perché i bambini teoricamente sono esenti dall'ipercolesterolemia, però ci possono essere bambini che sono figli di persone, di genitori che hanno un eccesso di colesterolo. Allora, il rischio che fin da piccoli possano avere un colesterolo più alto del normale va verificato, viene verificato la nascita, può essere verificato periodicamente se il colesterolo si trova alto. Ci sono delle condizioni che si chiamano di ipercolesterolemia eterozigote, che sono familiari, meno gravi, che vanno controllate. Quella molto grave è l'ipercolesterolemia omozigote, in cui è prodotto un eccesso di colesterolo, ma è una condizione molto rara. Diciamo che in Italia c'è circa uno su un milione di abitanti, quindi circa 60 persone in Italia hanno questa grave condizione di eccesso di colesterolo nel sangue. Allora, professor Manfellotto, sentiamo cosa arriva da casa e soprattutto come fare ad intervenire ad Elisir da casa. Domenico e anche Francesca, buongiorno. Buongiorno, la redazione web di Elisir è ovviamente già attiva. Contattateci tramite WhatsApp, mandando un messaggio al 340-7384-068 oppure andate sul nostro profilo Facebook digitando chiocciolina Elisir TV. Professore Valeria, 59 anni, ha letto che esiste un legame tra aumento dei valori del colesterolo e stress. Conferma questa tesi? Sì, l'ho accennato prima. In realtà lo stress fa produrre una maggiore quantità di colesterolo perché il colesterolo è proprio necessario per la sintesi del cortisolo, l'ormone dello stress. Però diciamo che è una risposta in qualche modo normale ed è una risposta attesa. Il problema è sempre quello di verificare quale sia e in che misura ci sia l'aumento di colesterolo e poi di conseguenza prendere eventuali decisioni per curarlo. Domanda molto ingenua, ma se uno è molto stressato, si ha questo processo fisiologico, nel momento in cui lo stress va a cessare il colesterolo rimane in circolo e quindi si deposita o in qualche maniera si riassorbe? Non è per niente ingenua questa domanda, ma è molto acuta. Meno male, meglio. No, no, è molto acuta in realtà, Benedetta, perché è chiaro che se noi viviamo una condizione continua di stress allora ci può essere un eccesso di colesterolo che può raggiungere dei livelli di allarme che possono procurare delle conseguenze negative. Ma lo stress è la nostra vita quotidiana. Noi senza stress giusto non potremmo vivere. È la risposta. In questo momento sia lei sia io abbiamo una quota di stress data dalla condizione in cui ci troviamo ma serve per rispondere nel modo migliore alla situazione che stiamo vivendo. Senza stressarla troppo, quali sono i valori nella norma e in eccesso? Andiamo a vedere questa tabella così anche da casa si memorizza meglio. Allora, nella tabella è scritto molto correttamente valori normali fra virgolette perché in realtà i valori normali ormai non si considerano più. Diciamo che sono valori desiderabili, auspicabili. Il colesterolo totale dovrebbe essere al di sotto di 200, la soglia fatidica. Il colesterolo LDL al di sotto di 100. Spieghiamo cos'è LDL così accorpiamo un po' di domande. LDL e l'HDL invece deve essere alto. Perché deve essere alto? Perché si diceva sempre il colesterolo buono e il colesterolo cattivo. LDL è cattivo e HDL è buono. In realtà il colesterolo è sempre la stessa molecola, non è che cambia. Però viene veicolato da lipoproteine. Sono un po' come i monopattini che ci sono adesso. Non dica questa parola monopattino che poi mi rappellano. Non citiamo la parola monopattino. Sono dei monopattini che trasportano il colesterolo. Le LDL perché sono cattive? Perché lo trasportano e in realtà lo portano verso la parete delle arterie e quindi portano il colesterolo a depositarsi sulla parete delle arterie. LDL vuol dire low density, a bassa densità. Quindi c'è poca proteina e molto colesterolo. Quindi più facilmente lo deposito. HDL vuol dire high density, che vuol dire alta densità di proteina e meno colesterolo. E hanno un'azione di spazzino. Lo tolgono dalle arterie e lo portano nel sangue verso il fegato dove deve essere eliminato. Perché dicevo valori auspicabili? Anche perché l'obiettivo cambia a seconda della fascia di rischio. Ormai noi abbiamo delle scale per misurare il rischio di una persona. Il rischio può essere basso, moderato, alto, molto alto oppure molto alto dopo un evento cardiovascolare, un infarto, l'ictus. Lì cambia l'obiettivo terapeutico. Il colesterolo LDL può arrivare addirittura a un obiettivo di 20 milligrammi e quindi scendere a livelli molto molto bassi proprio per prevenire ulteriori danni. Oh, le analisi del sangue immagino siano le analisi da fare per scoprire questi valori. Ma ci sono dei segni anche che uno può sentire, non per forza esterni, ma delle sensazioni che uno può provare se il colesterolo è alto? Guardi, nella gran parte dei casi, nella gran parte delle condizioni, i segni purtroppo vengono quando si manifestano le complicanze di una placca aterosclerotica e quindi un disturbo circolatorio. E quindi è un sintomo, è un segno di una malattia che si sta verificando. Quando c'è un grosso eccesso di colesterolo, in particolare in quelle forme che le dicevo prima, familiari, ci possono essere dei depositi di colesterolo, per esempio sulle palpebre, si chiamano xantelasmi. Quella placca giallastra che sta fra la palpebra superiore e la radice del naso è un accumulo di colesterolo. Questi xantelasmi sono degli specie di indicatori di un eccesso di colesterolo che si è depositato anche lì, intorno agli occhi dei pazienti. Un tempo, quando ero un giovane medico, ne vedevo tanti. Adesso è difficile vederli. C'è anche sull'occhio, intorno alla cornea, un arco corneale che indica un eccesso di colesterolo. Altra cosa che noi vecchi medici abbiamo visto è che adesso si vede meno. Francesca. Sì, Michele. Sì, scusa. Va bene. Io ho parlato di comunismo, per cui va benissimo. Chiamami anche Michele. No, Benedetta. Allora, parlavamo appunto di colesterolo con il professore, soprattutto di donne in questo caso, perché in menopausa sappiamo che tutti dobbiamo fare più controlli e questo comprende anche il colesterolo. Tenere alto il colesterolo buono, di cui parlava il professore, può aiutare le donne a proteggersi da un rischio vascolare? Allora, noi sappiamo che la menopausa per la donna è una condizione che fa aumentare il rischio cardiovascolare. Peraltro ne abbiamo parlato ieri, quindi sul replay potete rivedere la pubblica. Certo, è noto e documentato, quindi non sto a ripetermi. Perché il colesterolo? Perché, come dicevo, il colesterolo è fondamentale per la sintesi degli ormoni, in particolare degli ormoni sessuali, nel caso della donna degli estrogeni. Quindi questo colesterolo che viene utilizzato in buona parte in età fertile per produrre estrogeni, dopo la menopausa rimane invece libero e non c'è produzione di estrogeni, quindi può salire come concentrazione ed accumularsi nell'organismo. Professore, commentiamo velocemente questa tabella, la 10 per la regia, i fattori predisponenti. In gran parte ce li ha già elencati, però magari alcuni sono da approfondire. Allora, ci sono alcune malattie, come appunto il diabete, è una vera e propria malattia metabolica, come l'obesità. Le volte si mettono insieme, si parla di diabesità, per mettere insieme le due condizioni che rappresentano un'alterazione metabolica dell'organismo, quindi colesterolo, acido urico, telegriceridi che possono aumentare. L'ipertensione anche è una condizione che si associa all'aumento dei grassi nella cosiddetta sindrome metabolica. La familiarità, l'ho detto, è un elemento importante perché i due genitori con ipercolesterolemia hanno un'alta probabilità di generare un figlio con colesterolo elevato. La sedentarietà, perché è chiaro che facendo attività fisica possiamo mobilizzare il colesterolo HDL, quindi quello, diciamo, tra virgolette, buono, e quindi avere un effetto positivo. La dieta sbagliata, perché anche se l'influenza dell'alimentazione è minore rispetto alla sintesi normale del fegato, un'alimentazione con un eccesso di colesterolo può essere ovviamente un elemento non favorente. Alcuni farmaci, perché è noto che alcuni farmaci, beta bloccanti o diuretici, usati per l'ipertensione o lo scompenso cardiaco, possono avere come effetto collaterale un aumento della colesterolemia. Professor Manfellotto, io per il momento la ringrazio, la mando alla sedia scomoda, come la chiama Michele, per le terapie e le cure. Sentiamo per strada cosa abbiamo raccolto dalle persone che ci parlano della loro esperienza col colesterolo. Il mio colesterolo è alto, prendo la pasticca. Il mio è la tiroide che me lo provoca. Io posso mangiare bene come io fare e mi sale lo stesso. Il colesterolo buono è quello che combatte quello cattivo, penso. Per aiutare un buon colesterolo sicuramente è giusto eliminare i tanti zuccheri. Io ce l'ho un po' alto, perché mangio un po' insaccati, cose del genere. Non è l'alimentazione, è proprio di natura e familiarità. Uso molto il bergamotto, ma io non sono predisposta per avere il colesterolo alto. Da sempre cammino, cerco di mangiare pochi grassi e non animali soprattutto. Anche i giovani possono avere problemi di colesterolo. Io controllo il colesterolo ogni sei mesi, un anno. Bisognerebbe stressarsi di meno, divertirsi di più, ma con questa chiusura diventa difficile. Cerchiamo di arrangiarci, di non abbandonare completamente il fisico, che è importante. Menso sana, incorpore sano. Nell'esordio della conversazione, professor Manfellotto, ricordo essere il professor Dario Manfellotto, direttore di medicina interna all'ospedale Benemerito, fate bene fratelli Isola Tiberina di Roma, e presidente del FADOI, Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, che è il nervo proprio dei medici che hanno più contatto con noi tutti per cittadini. Allora, controllare, ha detto giustamente Benedetta, periodicamente i livelli di colesterolo. è molto importante, nel sangue ovviamente, è molto importante, ma quando le analisi ci dicono che i valori di colesterolo superano la norma che ella ha brillantemente rilamentato, qual è la prima linea di intervento? Questo è il mestiere suo, possiamo riassumere le indicazioni da seguire, perché nel filmato, come ha potuto apprezzare, ci sono opinioni un po' controverse. Ma intanto buongiorno anche a lei, poi ha ragione che la sedia è scomoda, perché effettivamente quella è una poltroncina proprio da... Perché la deve esprimere la dottrina, e lei è abilissimo come molti colleghi suoi, non tutti. Questa invece deve essere scomoda, perché le domande riguardano la terapia. Lei non è caduto da questa sedia. No, no, io stavo suonando l'arpa. Ah, ecco l'arpa, ho capito. Poi è uno strumento difficile. No, la schifezza dello strumento era il monopattino buttato per strada, come usano fa... E c'aveva anche il colesterolo sopra. Esatto. Allora, il colesterolo mio che ha fatto in quel momento? Eh beh, sarà salito alle stelle, probabilmente. Esatto. Allora, che si fa? Allora, abbiamo detto che ci sono dei valori cosiddetti desiderabili. Se noi siamo al di sopra di questa soglia di valori desiderabili, ovviamente dobbiamo fare una valutazione. Io ho parlato di una valutazione possibile con delle scale di misurazione, per dire se il rischio del paziente o della paziente che ho davanti è basso, moderato, alto, molto alto, eccetera. Allora, lì mi regolo. Se il rischio è molto alto, allora devo intervenire immediatamente con dei farmaci. Se invece il rischio è basso o moderato, posso allora fare dei consigli in generale, che prevalentemente sono dei consigli alimentari e di igiene di vita. La tabella li sintetizza molto bene. Bere ovviamente acqua, perché questa è una raccomandazione sempre importante. L'olio d'oliva è un elemento fondamentale, perché l'olio d'oliva è l'acido oleico, è un acido monoinsaturo, quindi naturalmente contro il colesterolo, antiaterosclerotico. Crudo e cotto? Crudo e anche cotto, perché anche dopo la cottura non si modifica, come diciamo noi, non polimerizza e quindi mantiene l'effetto positivo. Sì, verdure e frutta, legumi e sì al movimento, anche come dicevo prima. Quindi questa è una raccomandazione. Però purtroppo l'alimentazione influisce in misura minore sulla sintesi di colesterolo e sul suo controllo, cioè riuscire a ottenere una normalizzazione del colesterolo con l'alimentazione è quasi impossibile, è molto difficile. C'è un altro aspetto importante, che è quello, ecco, per esempio, limitare il consumo di uova. Questo è un elemento molto importante. Noi abbiamo bisogno di colesterolo, come dicevo sempre. L'organismo ne ha bisogno. Addirittura le raccomandazioni dietetiche parlano di una quantità di colesterolo da prendere, da assumere ogni giorno, i 250-300 milligrammi al giorno. Un uovo ha circa 200-230 milligrammi. Quindi un solo uovo quasi raggiunge la quantità di colesterolo che è necessario. Di cui la raccomandazione è di mangiare uova due volte, tre volte a settimana, in genere non di più. Ma del resto la moderazione riguarda tutti gli alimenti, non solo gli uovi. La moderazione è la norma. Assolutamente. Come dicevano i greci, la dieta vera. Parliamo di terapie. Perché non seguire la norma, non fare movimento, non avere una vita attiva, esagerare con certi cibi di cui siamo ghiotti può portare a delle serie complicanze. Prima di arrivare ai farmaci, però, sento dire che basti consumare degli integratori alimentari per riuscire a raggiungere livelli giusti di colesterolo. È giusto? Sì, ci sono tante. Sono prodotte tantissime di queste sostanze. E comunque sempre dopo prescrizione medica, è evidente. Sì, c'è molta autoprescrizione su questa perché sono prodotti da banco. Uno li può comprare in farmacia anche a prescindere dalla prescrizione medica. Però i medici spesso li consigliamo per vedere se c'è un effetto. Diciamo anche con una vera ipercolesterolemia, con gli integratori, che contengono polifenoli, riso rosso fermentato o altre sostanze antiossidanti e ipocolesterolemizzanti. Noi non possiamo sempre avere una normalizzazione dei valori di colesterolo. Quindi ci vogliono i farmaci. Farmaci, benissimo. Mi ha portato elegantemente alla domanda che riguarda i farmaci. La terapia farmacologica consiste sostanzialmente oggi nelle statine. Anche se magari il lessico ha proposto nuovi nomi, ma io sono rimasto fedele a statine. In quale modo agiscono? E poi, così non la interrompo, si tratta di farmaci che dobbiamo assumere a vita oppure possiamo raggiungere una condizione accettabile perché le statine riducono la produzione del colesterolo e riescono addirittura a eliminare quello già stanziato nei nostri vasi? Ha detto tutto. Che cosa devo aggiungere? Beh, andiamo avanti allora. Allora, riducono sicuramente la sintesi del colesterolo. Questa è l'azione farmacologica delle statine. Non sono solo statine adesso, abbiamo anche altri farmaci, non faccio nomi per discrezione. Con lo stesso meccanismo? No, ci sono alcune sostanze che riducono l'assorbimento intestinale del colesterolo, altre sostanze che con altri meccanismi diversi dalle statine riducono la sintesi di colesterolo. L'obiettivo è sempre quello di abbassare i livelli, la concentrazione nel sangue di colesterolo e quindi di poter avere questo effetto che lei diceva di spostare il colesterolo dalle arterie e quindi migliorare la condizione. Poi ci sono anche farmaci modernissimi, molto più efficaci, che si danno quando con le statine non riusciamo a raggiungere quei valori auspicabili in rapporto alla condizione di rischio, anche delle volte ad azzerare il colesterolo LDL, portarlo a valori bassissimi. Allora, questi sono i farmaci che si chiamano gli inibitori delle PCSK9. PCSK9 è una proteina che ha un'azione di portare via il colesterolo con un meccanismo molecolare particolare che non sto a spiegare perché è un po' complicato, però bloccando questa proteina si fa in modo che il colesterolo vada verso il fegato e quindi il fegato possa eliminarlo e metabolizzarlo. È una iniezione sottocutanea, viene fatta una o due volte al mese in chi ha una colesterolemia eccessiva e molto resistente e l'effetto è straordinario. Vede che non avevo detto tutto, la cosa più nuova e più importante l'abbiamo raggiunta. Francesca. Sì, Michele, vogliamo dare una risposta ad Anna che di solito dona il sangue, però dice di avere il colesterolo alto, in questo caso cosa può fare? Può continuare a donare il sangue o deve evitare? Dipende dal valore di colesterolo, comunque le raccomandazioni sono molto precise e indicate dai medici dei centri trasfusionali. Se c'è un'ipercolesterolemia banale non ci sono problemi, se l'ipercolesterolemia è molto grave o ci sono dei farmaci, il medico si può riservare di prendere una scelta, prendere una decisione e indicarla al paziente. Professore, di anzi abbiamo ascoltato quell'inciso che avete fatto con Benedetta sull'eccesso di colesterolo nei bambini, che è più raro ovviamente e la cui genesi l'ha spiegato compiutamente. Questa terapia va bene anche per loro? La terapia di cui ha accennato? Questa terapia iniettiva andrebbe bene e va bene, viene utilizzata insieme a altre tecniche in quei rari casi di ipercolesterolemia gravissima, mozzigote, però ho detto è una su un milione, è una malattia rara. In Italia si contano circa 60 persone che hanno questa forma, di cui 35 sono in trattamento. Fa benissimo, professor Manfelotta, ritornare sempre sulla fedeltà alle prescrizioni, non soltanto dei bugiardini, ma anche del medico curante che ha segnato, ha prescritto quel farmaco, perché il rischio per chi abbandoni la terapia perché stufo, perché convinto di aver già vinto, sono alti. È altissimo, è altissimo. Nelle manuali e nella pubblicistica di lingua inglese si parla di compliance, cioè di adattabilità al trattamento. Ognuno italiano diciamo aderenza e persistenza, che effettivamente è un'abitudine. Si prescrive un antibiotico per una settimana, il paziente lo prende per tre giorni. Così la statina, prendo 40 milligrammi, ne prende 20. Oppure devi prenderlo e lo riduce. C'è sempre uno sconto, diciamo, che molto spesso viene fatto. Però è importante attenersi alle indicazioni mediche. Allora, siamo alle domande del pubblico. Ben gestite la benedetta. E anche da Domenico e Francesca, ma inizio io anche perché ne avevamo parlato col professore prima degli xantelasmi, cioè quegli accumuli di grasso, di colesterolo sugli occhi. Ecco, ci chiedono se si possono togliere. Sì, sì. Si possono rimuovere. È un intervento, diciamo, di chirurgia plastica sostanzialmente. Quindi si interviene, si svuota questa sacca e si ricostruisce. E questa era la domanda di Giorgio. Adesso diamo Domenico. Sì, professore, c'è Ilaria che ha 23 anni e ci dice che fino adesso avete parlato di valori alti del colesterolo totale. Io invece ho il problema opposto. Ho valori del colesterolo totale molto bassi. Ci chiede, questo può essere anche un problema? No. Nel senso che la quantità che è necessaria per l'organismo comunque viene utilizzata è una condizione di protezione cardiovascolare avere dei valori di colesterolo o normali o inferiori alla norma. Francesca. Sì, invece, Betta, credo, Elisabetta, soffro di tallonite. Il medico mi ha detto di controllare i livelli di colesterolo. Come mai, si chiede? Mi scusi, ma non ho capito. Soffro di? Tallonite. Ah, la tallonite. Ah, ok. Siccome questi depositi di colesterolo possono interessare anche le guaine tendine, allora potrebbe esserci un accumulo di colesterolo che produce questa infiammazione del tallone e quindi manifestarsi con un dolore proprio in sede talare, nella sede del tallone. Buongiorno, sono Eliane. Mi sono allarmata quando nelle analisi di mia nipote, 14 anni, nel risultato il colesterolo totale a 215. È giusto il mio allarme? Beh, va controllato sicuramente. Insomma, è un bambino, è chiaramente un valore superiore a quelli auspicabili e quindi va controllato. Allora, noi ringraziamo il professor Dario Manfellotto, direttore della medicina interna dell'ospedale Fadebene Fratelli, presidente della Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri. E allora adesso continuiamo con la nostra cavalcata non soltanto di Elisir, ma anche la campagna Io mi vaccino perché. Vediamo.